Facciamo un viaggio dritto verso il cuore di Barolo, sia cuore geografico ma anche cuore storico. Andiamo a toccare quella che è proprio la tradizione di questo territorio e la sua storia insieme a Marchesi di Barolo. Lo facciamo grazie alla compagnia di Valentina Bona che ci grazia della sua presenza. Andremo a raccontare un po' i vini, qualche MGA, ma soprattutto a toccare quelli che sono gli aspetti della famiglia e di Valentina, passato, futuro e prospettive. Valentina, senti, avete un retaggio culturale storico veramente importante che tra l'altro è legato in realtà a due aziende e a due famiglie distinte. Oggi non è probabilmente un peso ma una responsabilità molto forte. Come la portate avanti? Questa è una domanda interessante perché sicuramente la responsabilità si sente. La nostra azienda oggi, Marchesi di Barolo, è un'azienda storica che nasce grazie all'intuizione di una grandissima donna, Juliet Colbert, che fu l'ultima Marchesa di Barolo. Arrivata a Barolo proprio come promessa sposa, anzi sposa già a quel punto, dell'ultimo marchese Carlo Tancredi Falletti. Era l'inizio dell'Ottocento, Juliet arriva e subito si innamora di questa terra bellissima che dà dei frutti meravigliosi che però non vengono tradotti nel vino che lei conosceva in Francia. Quindi ha rivoluzionato un po' la nostra tradizione, insegnando anche ai vari coltivatori della zona, tra cui la nostra famiglia, come fare effettivamente il vino che poi chiamò Barolo, in onore del paese dove venne prodotto. Fece costruire le primissime cantine, che sono quelle in cui ancora oggi la nostra famiglia vinifica. Fece assemblare delle botti di legno per la prima volta, così che questo succo dolce dell'uva diventasse finalmente secco, fermo e non più frizzante e potesse arrotondare un po' quelle austerità che sono tipiche ancora oggi del nebbiolo. Quindi questa grande rivoluzione la portiamo avanti tutti come produttori. La nostra famiglia, poco dopo, imparando anche dagli insegnamenti della Marchese Juliette e della sua cantina, che a quell'epoca era già un'eccellenza per la zona, iniziò anche la nostra famiglia a produrre proprio nel cuore di Barolo. E nel 1929 abbiamo avuto l'opportunità di portare avanti questo grande nome così altissonante, ma di conseguenza anche tutte le grandi responsabilità che vengono con esso. Quindi mantenere questa grande tradizione della zona rispettandola anche nell'innovazione. Anche perché Juliette fondamentalmente non aveva nessuno a cui passare l'azienda, quindi questo retaggio. Esatto, purtroppo non hanno avuto figli. Sia Juliette che il suo marito furono delle persone molto lungimiranti e molto attente a quelli che erano i bisogni dell'epoca. Hanno investito tantissimo in opere caritatevoli e prima di mancare Juliette istitui proprio un'opera Pia, che attiva ancora oggi a Torino, con le stesse regole che ha detto lei nel 1864, prima di mancare. Quindi quando dico ecco grande lungimiranza, si vede già da questi piccoli passi. E questa opera Pia portò avanti l'azienda Marchese di Barolo fino all'anno in cui non le fu più permesso di avere delle attività di trasformazione del prodotto. E fu a quel punto che la nostra famiglia, ormai produttrice, da fine del secolo precedente, entrò a far parte di questa grande storia e la portiamo avanti, ecco, ancora oggi, quindi dal 29, scusami, ci siamo trasferiti e siamo ancora lì. Tra l'altro non è stato un percorso lunghissimo perché eravate già davanti. Esatto, esatto, sono stati proprio pochi passi, poche centinaia di metri, si è trasferiti dai piedi del castello all'edificio che sta proprio di fronte, appunto, alle cantine storiche dei Marchesi. La Marchese non ha avuto figli, ma in qualche modo siete tutti figli della Marchese. E questo penso che sia l'orgoglio più grande del paese di Barolo, questo insegnamento, questo amore per una terra che non era la sua di nascita, ma la terra nella quale poi si è sentita casa e rimasto a tutti quanti. Dal 29 a oggi come è cambiata l'azienda, come è cambiato Marchese di Barolo? Ma, allora, io ti posso parlare di quella che è la mia piccola esperienza, però sicuramente anche grazie all'esperienza di papà e ai suoi ricordi, a quanto gli è stato trasmesso dal nonno, credo di avere un'idea di quello che è successo nel tempo. Quando la nostra famiglia si è trasferita, a poche centinaia di metri di distanza, nelle cantine storiche dei Marchesi, la realtà era molto diversa rispetto a quella di oggi. Più che produttori, eravamo pochi produttori all'epoca, c'erano tanti coltivatori di terreno. Quindi sicuramente questo è un aspetto molto diverso oggi. Ad oggi siamo tantissimi produttori che abbiamo piacere di rappresentare quelle che sono le diverse particolarità della nostra terra. Mentre invece prima, proprio perché la tradizione era quella di coltivare un'uva e poi di venderla alle persone, alle poche famiglie che all'epoca producevano, anche le rappresentazioni del nostro territorio hanno rappresentazioni molto classiche e più generose, più comprensive, perché effettivamente racchiudevano tante di quelle che sono le sfumature che Barolo offre, quindi le diverse menzioni geografiche aggiuntive, i diversi cru. Ad oggi c'è una grande attenzione anche per il dettaglio, sicuramente anche un palato più preparato da parte del consumatore, che ha piacere di scoprire queste differenze e anche la curiosità, grazie all'esperienza che ormai ha alle spalle, di approfondire sempre di più. Anche perché non dimentichiamo che tutta la storia del vino italiano in realtà è una storia recente, comunque anche quella di Barolo, il successo nel mondo forse riparte dagli anni Sessanta in realtà. Assolutamente, io penso che la grande differenza, o meglio il grande passo sia stato segnato con l'introduzione della DOCG, quindi nell'80, parliamo veramente di una storia molto giovane, ma se si pensa alle prime bottiglie di Barolo prodotte già all'epoca della Marchesa, parliamo di inizio 800, quindi è vero, sono più di due secoli fa, ma tutto sommato è un lasso di tempo abbastanza recente rispetto ad altri paesi nel mondo. Quindi in poco tempo tante belle e grandi emozioni, fino ad arrivare alla conquista della denominazione geografica di origine controllata e garantita, che ha permesso anche un controllo più rigoroso sul vigneto e poi di conseguenza sulla produzione. A me piace sempre cercare di capire le motivazioni storiche e culturali che magari limitano lo sviluppo di un territorio. Forse il fatto di non avere sbocco sul mare per il Piemonte, soprattutto per la zona di Barolo, che rimane molto lontana, effettivamente è stato un limite verso i mercati inglesi, che erano classicamente popolati da grandi vini di Bordeaux. Beh, questo sicuramente ha influito, anche se ecco, la nostra storia, io penso proprio da italiani, è stata molto diversa rispetto a quella di altri paesi. Il Barolo, nel suo più breve percorso, ha viaggiato comunque abbastanza, già all'epoca dei marchesi appunto, che lo portavano nelle diverse corti reali, tra cui quella del primo re d'Italia, che addirittura, curioso di questo vino che si produceva a Barolo, chiese alla marchesa, ma com'è possibile che io ancora non l'ho assaggiato? E a quel punto la marchesa, parliamo veramente dei primi anni di unificazione d'Italia, regalò ben 325 carrà, quindi botti carrabili un pochino allungate che potessero stare sui carri senza cadere, al re facendolo recapitare alla sua corte. Una per anno, tranne i 40 giorni di quaresima, perché da cattolica giustamente contò solo i giorni in cui il re potesse bere. Per cui da quel momento il Barolo fu conosciuto come re dei vini, per la sua grande eleganza, la grande austerità e la grande potenza, ma anche il vino dei re e ancora oggi lo chiamiamo così. Poi ecco in tempi un pochino più recenti abbiamo ancora delle lettere che risalgono all'epoca delle guerre in cui i nostri vini viaggiavano fino a Bagdad. Ci sono veramente dei reperti interessanti anche per quanto riguarda la velocità della corrispondenza e l'attenzione che già allora si aveva nel trasporto. Quindi fate attenzione, mi raccomando, anche perché ecco parlando di differenze, ad oggi grazie alle tecniche di produzione, alla conoscenza, all'esperienza che si ha, si possono produrre dei vini molto puliti già da subito. Quindi già l'annata 2015 che abbiamo qua di fronte a noi è un'annata che permette di essere degustata e permette di essere goduta da subito. Prima non era così, quindi all'epoca viaggiavano Baroli tra l'altro su strade e su mezzi che non sono così sicuri o puliti come quelli che abbiamo oggi. Baroli che avevano una decina, una quindicina, una ventina d'anni e quelle erano le annate recenti. Quindi questo è un altro aspetto che è cambiato tanto. L'attenzione e l'amore per questi vini, no, per fortuna quello lo portiamo dietro in maniera sempre più marcata. E mentre parliamo inizio ad aprire e partendo da Coste di Rose, quindi da un MGA, mi viene in mente che comunque in realtà forse una delle prime citazioni di Barolo in etichetta fa riferimento a Cannubi, quindi fa riferimento di fatto all'MGA che unisce i due territori tra l'altro, i due suoli, quello eveziano e quello tortoniano. Proprio a un passo dalle nostre cantine. Noi abbiamo ancora delle bottiglie in cantina che risalgono al 1800 scritte a mano, con scritto solo Barolo, l'etichetta è scritta a mano, Barolo Cannubio, perché all'epoca quello era il nome della, quella che oggi chiamiamo menzione. E la nostra famiglia, produttrice Barolo prima di acquistare le cantine dei marchesi di Barolo nell'etichetta ufficiale riportava prima marca Cannubio, quindi ecco un legame con una zona specifica di Barolo già molto forte, dovuta sicuramente alla vicinanza rispetto al paese abitato, perché ancora oggi i Cannubi sono pochi passi di distanza rispetto al cuore del paese e alla nostra cantina, sicuramente una zona d'eccellenza grazie alla grande armonia che Cannubi presenta, proprio perché unione di questi due terreni che menzionavi prima. Tra l'altro la bottiglia allungata così è difficile da aprire da seduti, però per il servizio agevola veramente, veramente tanto. La bottiglia che sembra molto moderna, ma in realtà è dall'inizio degli anni Ottanta che la proponiamo, quindi per carità non parliamo di centinaia di anni, però sicuramente anche lei ormai ha fatto un piccolo percorso di storia. Senti, parlavamo di MGA, quindi Quasso di Rose tra l'altro è un MGA che nei ultimi anni sta riscuotendo tantissimo successo, c'è proprio un'attenzione particolare da parte sia di voi produttori, ma anche proprio degli appassionati che stanno cercando anche di capire le varie sfaccettature. Quali sono le caratteristiche? La caratteristica più grande di Coste di Rose è sicuramente la sua unicità. Coste di Rose è una bellissima collina che si trova proprio nel centro di Barolo, se si sta sulla nostra terrazza in cantina rimane alle spalle del castello, quindi fa da sfondo a questa fornice meravigliosa. Quindi nel cuore di Barolo però una collina particolarmente sabbiosa, con delle pareti molto friabili che appena si passa vicino con la mano si sfaldano, quindi una composizione di terreno molto particolare per quello che è il comune, proprio il centro, il cuore pulsante della zona di Barolo che di solito è caratterizzata da una grande ricchezza, da una grande potenza. Teoricamente Coste di Rose rimarrebbe già nella zona cosiddetta elvezziana, quindi più antica della denominazione di Barolo, più erosa, di conseguenza con meno sabbia. Coste di Rose è una unicità pazzesca, con un'eccezione incredibile perché effettivamente rimane molto sabbiosa. Ma poi effettivamente anche soltanto partendo a mettere il naso dentro il calice è incredibile perché dall'elvezziano ti aspetteresti un po' più di trovarti un vino più austero, anche un po' più chiuso, invece immediatamente si apre e ti colpisce subito per questa piacevolezza. Espressivissimo. Il mio papà lo chiama il Barolo per l'estate, proprio perché è così immediato, così fragrante, un po' più sottile nella sua struttura, però decisamente fresco. Quindi ti invoglia anche nei mesi un po' più caldi a servirlo con qualche grado in meno, con dei piatti più freschi e rimane molto piacevole. E poi forse anche il nome ricorda già questa grande freschezza, questo profumo incredibile che esce dal bicchiere. Sì, forse già ti influenza verso delle note un po' più floreali che ti possono portare più verso già la morra piuttosto che... Esatto. Quindi è bellissimo questo gioco. Comunque ritrovi anche in parte il suolo classico di quella zona, di quella MGA, però effettivamente gioca tra le due macro terreni perché semplifichiamo sempre il svezziano, tortoniano... Però in realtà ci sono mille sfaccettature. Ma è proprio questo il bello, secondo me, dell'andare sempre più in profondità e nel dettaglio e scoprire quelle che sono le opportunità che la nostra terra ci offre. Perché parliamo di Barolo in generale, come se fosse un tutt'uno, ma in realtà Barolo è un insieme di tante colline, è un insieme di tante esposizioni, di tante altitudini, di tanti tipi di terreno e di tanti microclimi. Di conseguenza sono infinite le possibilità di espressione che poi possiamo trovare in una bottiglia. Anche il produttore stesso che comunque mette il suo estro nella produzione finale e di conseguenza ci sono veramente espressioni uniche che possono stare una vicina all'altra senza ripetersi. Costi di Rose secondo me è uno di quei gruppi più affascinanti proprio perché stupisce per questa grande differenza di espressione rispetto a quello che ti aspetteresti. Sì, no, decisamente, ma anche all'assaggio è molto più estivo, come effettivamente dicevi. È già scorrevole, comunque stiamo parlando di una 2015, non stiamo parlando di un Barolo che ha chissà quanti anni sulle spalle. Assolutamente. Immagino ovviamente sia l'annata che avete fatto ora come release, però è già pronto, è già molto piacevole. Il tannino è delicato, non è un tannino troppo austero che non si vuole concedere. Assolutamente. È presente ma è veramente molto, molto ulteriore. Ecco, è uno di quei Baroli che secondo me ti permette di avvicinarti al mondo del Barolo in punta di piedi perché è un ingresso più facile, ma anche per chi invece è già molto appassionato e già molto informato sulla zona di Barolo. Nei momenti più di rilassatezza un Coste di Rose ti permette veramente di farsi bere bene. Tra l'altro Coste di Rose è impressionante anche per quanto è ripido perché comunque nei grandi territori di vino non ci sono così tante colline con questa inclinazione, perché se non sbaglio parliamo di 40-45 gradi. Sì, 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 assolutamente. Però immaginati che è su un terreno molto friabile, per cui è una di quelle colline diciamo anche più pericolose, proprio perché nel momento in cui piove tanto, come è stato all'inizio dell'annata 2015, in cui da un lato si è creata una bella riserva idrica che ci ha aiutato anche nei mesi successivi in cui le temperature si sono scaldate. Dall'altro è più pericoloso perché questa sabbia assorbe tantissima acqua, di conseguenza la collina si riempie e dopo poco si sgretola. Penso a quel vigneto leggendario, il Claude Guas, che di fatto abbiamo 45 gradi di pendenza gessoso, che assorbe tantissima acqua e i lavoratori fanno veramente fatica ad andare frana, ecco, questa è la parola che stavo cercando prima. Diventa, ed è fantastico perché quando pensiamo al territorio di Barolo non pensiamo mai ad un territorio di vignaioli eroici, però in questo caso... Assolutamente, ma Coste di Rosa è così come sul Sarmassa, il paese di Barolo. Che intanto inizia a aprire. Molentieri. Entrambi questi cru si trovano proprio nel comune di Barolo, che è caratterizzato comunque da pendenze abbastanza importanti. Anche qua parliamo di un grado di pendenza simile al Coste di Rose, in questo caso però è un terreno completamente diverso, molto asciutto, non c'è un'alta percentuale di sabbia, ma piuttosto di argilla, di calcare, soprattutto di rocce, di massi molto scivolosi, soprattutto nel momento in cui piove. Se sul Coste di Rose l'acqua viene trattenuta, qui drena, tantissimo e da un lato è difficile lavorarci perché diventa appunto scivoloso e un pochino più pericoloso, dall'altro le radici delle viti devono fare una fatica incredibile per recuperare quelle sostanze nutritive che servono comunque a crescere delle belle uve. Quindi Sarmassa fra tutti, io lo chiamo sempre il Barolo più combattente, in inglese di solito lo definisco the fighter, perché è quello che deve lavorare di più per essere poi effettivamente nel bicchiere, ma questo sforzo, questa grande concentrazione sicuramente ritorna in una grande espressione, in una grande austerità, in una grande potenza, quindi quello che ti dovresti aspettare forse dal Coste di Rose proprio per la sua posizione in una zona tipicamente elvezziana, lo troviamo invece in Sarmassa, che rimane invece, esatto, in una zona tortoniana. Però è bellissimo perché di nuovo, quando parliamo di Barolo cerchiamo sempre di semplificare, anche perché è un mondo con così tante aree geologiche che diventa difficile anche per un appassionato di vino riuscire a gestire concettualmente la sua atereogeneità. Assolutamente. Però questa è la prova che forse dovremmo non vederlo in bianco e nero, ma vedere il grigio, cioè capire quelle che sono. Esatto, e le diverse sommature di grigio, perché non si ripetono mai. Ecco, Sarmassa proprio a causa della sua grande pendenza è stata una delle prime colline a slavarsi di sabbia, quindi a far sì che la sabbia venisse poco alla volta portata via da vento, piogge, nevicate e di conseguenza rimanesse questo cuore più austero che rimane di solito sotto, un pochino più in profondità. Ecco, in questo caso è emerso e questa grande potenza la si sente decisamente nel bicchiere dove emergono note molto più minerali, più balsamiche rispetto al costo di rosa. Lo sentiamo subito al naso, ma poi ovviamente quando parliamo di barologo il focus va direttamente sul tannino, quindi in questo caso questo tannino è abbondante ma austero, come dire, si fa vedere ma non si sta ancora concedendo, non si sta rilassando, ed è bellissimo perché ti dà anche l'idea di quella prospettiva di invecchiamento di un binoma. Assolutamente. Molto più timido al primo approccio star massa, mentre il costo di rosa è più espressivo, però sicuramente ecco, una di quelle personalità che poi nel lungo ti permette di farsi conoscere di più e di entrare più in confidenza. Quindi sicuramente grandi soddisfazioni anche tra, anzi, forse ancora di più tra diversi anni. Quasi un amore più estivo rispetto a un amore più, più duraturo che devi però scardinare di lavorare un po' di più, bravissimo, sì. Prestituisci le relazioni di più lungo periodo. Senti, quanti anni sono che ci sono le MG, una decina più o meno? Ma allora, in realtà sono diversi anni che ci si sta lavorando dietro, poi ovviamente Alessandro Masnanghetti ha portato una grandissima attenzione facendo un lavoro incredibile proprio sulla mappatura, ecco, della zona. Già ai tempi di Veronelli, comunque parlando quindi degli anni Ottanta, c'era questo, e addirittura prima, dagli anni Sessanta che si inizia a ragionare in termini di MGA. Con Veronelli c'è stato un grande passo in avanti proprio nel riconoscere quelli che sono non tanto territori di eccellenza, perché a differenza dei nostri vicini francesi, nella zona del Barolo o generale in Italia, non si parla di classificazioni dell'MGA. Sono poste tutte allo stesso piano, quindi l'attenzione è veramente sulla differenza che sussiste tra un vigneto e l'altro, seppur molto vicini, come in questo caso. Parliamo veramente di vigne che sono in linea d'aria a neanche un chilometro di distanza. Sono vini completamente differenti. Assolutamente. Tra l'altro esposizione molto simile, perché entrambe sono a sud-est, l'inclinazione è abbastanza simile, l'altitudine è intorno ai 300 metri, poco di più, il microclima essendo così vicino è anche abbastanza simile. Cosa cambia in questo caso? Ecco, l'unico fattore che cambia tutta l'equazione è il tipo di terreno, quindi pensa solo come un elemento può impattare sulla differenza nel risultato. Se poi aggiungi tutti gli altri, veramente c'è un mondo da scoprire. Ci sono MGA ovviamente più ampie, più piccole, ora penso a Bussia che è estremamente ampia, quindi anche molto eterogenea nelle sue espressioni, nonostante abbiamo zonato fondamentalmente. Su coste di rose, più o meno quanti produttori siate a lavorare? Cioè che immagino comunque si è abbastanza piccola. Sì, 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 non è molto grande. Siamo sicuramente in tre produttori che proponiamo un coste di rose in purezza, quindi come menzione geografica aggiuntiva. E su Star Massa siamo in quattro, quindi veramente sono anche espressioni più di nicchia, proprio perché non sono così di facile ritrovamento, ecco, in giro. Sono delle espressioni molto uniche, molto intime del nostro terroir, ma secondo me ecco che nel momento in cui ci si inizia ad appassionare di Barolo sono quelle espressioni che poi ti conquistano proprio per la loro particolarità e per questo grande dettaglio che viene marcato molto bene in ognuno di essi. È molto interessante che di solito, tanto si va subito su cannubi per la storicità, per il fatto che comunque riesce a unire le due anime in maniera abbastanza corretta, ussia perché chiaramente la dimensione c'è per me, ma piano piano si scende sempre nel dettaglio. Ma ci sono delle denominazioni, adesso ci stiamo focalizzando sul comune di Barolo perché è il paese nel quale la nostra famiglia ha la maggior parte dei vigneti di proprietà, tra l'altro un numero anche abbastanza grande. Se guardiamo al Barolo del comune di Barolo è un assemblaggio di 11 vigneti diversi all'interno dello stesso comune. Ma uscendo dai confini di Barolo c'è un altro mondo da scoprire. Che state sperimentando? Poco alla volta. Abbiamo qualche vigneto nella zona di Verduno, in particolare Rocche dell'Olmo, che per ora viene vinificato in purezza, però poi dopo sempre riassemblato all'interno del nostro Barolo più classico. Quindi poco alla volta c'è questo desiderio di scoprire. Ovviamente le opportunità sono sempre meno, perché per fortuna c'è un grande legame al nostro territorio e di conseguenza sono poche le opportunità di trovare terreni disponibili. Ma io credo che questo sia anche il fascino di Barolo. Trovo che questo amore per la propria terra e questo desiderio di lavorare sui propri vigneti sia una caratteristica bellissima della nostra zona, che spero non vada mai terza. Poi immagino che ogni volta che si esce dal proprio seminato bisogna iniziare un po' anche a capire, a dialogare, si riparte dal zero. Quindi immagino che ancora sui nuovi vigneti siate in quella fase di conoscenza. Esatto, un po' come prima parlavi di storie d'amore estiva piuttosto che duratura. È un po' come un corteggiamento. Si deve conoscere il vigneto, se ne devono conoscere le particolarità, si deve capire come approcciarsi su quel territorio che per forza di cose è diverso, anche rispetto al vicino di casa, l'abbiamo appena detto. Quindi c'è sicuramente un grande lavoro sotto. Io mi ritengo molto fortunata ad essere nata nella nostra famiglia proprio perché abbiamo una conoscenza di questo territorio molto profonda dovuta ai tanti anni che ci legano a questa terra e anche alle tante vendemmie che abbiamo fatto. Il nostro enologo oggi, che con noi da un mese prima che nascessi io, quindi sono ad oggi 32 anni che Flavio è con noi in cantina, ha lavorato insieme all'enologo precedente per 25 anni, finché Roberto poi non è andato in pensione. Quindi questa conoscenza, ecco, non è propria solo di una persona, ma viene tramandata nel tempo così come i nostri genitori fanno con me e Davide. Certo, l'Heritage è fondamentale sia in vigna che quello storico di cui parlavamo prima. Quando parliamo di MGA trascuriamo sempre questa colpa di chi comunica il vino, ma anche di chi lo beve fondamentalmente, forse anche un po' dei produttori. Trascuriamo sempre le menzioni comunali, soprattutto quella di Barolo. Che secondo me hanno un grande fascino. Intanto io apro. Volentieri, volentieri. Hanno un grande fascino perché la dimensione comunale ti permette di capire meglio quelle che sono le grandi diversità che ci sono in un territorio molto ristretto, perché non guardiamo alla denominazione nel suo completo, che conta 11 paesi diversi su una superficie di quasi 2000 ettari vitati, qua parliamo di una superficie molto ristretta. Il Barolo di Comune, tra l'altro, il Barolo di Comune, il Comune di Barolo tra l'altro è uno anche dei più piccoli della zona, anche come superficie, nonostante sia interamente circostritto all'interno della zona del Barolo. Però, ecco, in questo territorio molto piccolo ci sono delle grandi differenze. Prima ho menzionato la nostra famiglia a 11 vigneti di proprietà all'interno dello stesso comune che concorrono alla produzione di questo vino, 11 espressioni uniche di quello che è Barolo, e a Barolo, abbiamo appena detto, troviamo la sabbia, ma troviamo anche grande potenza in vigneti come Sarmassa. Grazie. Di niente. Qui, oltre ai vigneti di Sarmassa e di Costi di Rose, assembliamo una percentuale di cannubi, che vinifichiamo poi anche come singola menzione geografica aggiuntiva, e altri vigneti che invece concorrono per intero, come Larvera, piuttosto che Castellero, Pugnane, Rocchi di Vernie, quindi sono diverse le opportunità a questo punto, anche su livelli diversi, quindi altitudini, esposizioni, microclimi, mentre invece qua l'unica variante era il terreno, qua ci sono altri fattori che fanno sì che le differenze si accentuino sempre di più tra un vigneto e l'altro. Qui tra l'altro siete in grado di esprimere la vostra anche visione del Barolo, perché potete giocare un po' sui vigneti, in funzione anche dell'annata. Ed è proprio questo secondo me il bello di una menzione geografica comunale, perché ti permette di trovare sempre questo grande equilibrio. I singoli vigneti in purezza sono delle espressioni di un terroir, che a seconda dell'annata varia, in maniera più o meno importante. Una visione più comprensiva, una visione comunale, ti permette di trovare sempre quell'equilibrio e di garantire quella non costanza, perché poi ovviamente ci sono delle diversità ad anno ad anno, però ti permette di dare un filo conduttore alla tua visione. Questo è stato tra l'altro il Barolo che ci ha dato le prime grandi soddisfazioni, negli anni 90, quando ancora si chiamava vigne di proprietà, è stato il nostro primo tre bicchieri. Di conseguenza poi sono arrivati tutti gli altri Baroli che poco alla volta si sono fatti conoscere. Però il lavoro che si fa sul Barolo del Comune di Barolo è un lavoro molto certosino di definizione, ecco, di quelli che possono essere le forme che i vari crew poi danno a una visione più generosa. A me viene sempre in mente un puzzle, dove comunque devi lavorare bene sui diversi pezzi per far sì che si incastrino l'uno con l'altro. Questo è un po' il nostro puzzle. Abbiamo una visione in mente, anno per anno dobbiamo lavorare sui diversi crew per far sì che si sposino bene uno con l'altro. E poi penso sia veramente importante quando si parte con una progettualità importante come la vostra, anche se non sono fondamentali, ma è l'avere un riconoscimento con un vino che esprime la vostra identità fino in fondo e poi vi dà il via. Assolutamente. Proprio per quello che hai detto, un Barolo più classico, un Barolo comunque che nasce dall'assemblaggio di diversi vigneti, ti permette di esprimerti. Mentre sugli altri comunque sei per volontà vincolato all'espressione del terroir, qua c'è più gioco. Quindi è il Barolo che ci permette anche di far conoscere meglio quella che è la nostra visione e la nostra volontà quando si arriva appunto al vino Barolo. È molto bello anche perché rispetto a un Coste di Rose ha comunque immediatezza, che potrebbe riportare, però Coste di Rose gioca molto sulla finezza, quasi sussurrare. E qui invece abbiamo, diciamo, c'è un po' più di grip sia al naso, perché comunque anche, diciamo, questa espressione di frutta è molto, molto bella. Poi tornano le note classiche che ci si aspetta ovviamente in un Barolo. In bocca è molto piacevole, è avvolgente. È più pieno. Sì, sì, è molto, è molto pieno e ha questo frutto che è quasi, quasi masticabile con il tannino che comunque non taglia mai il sorso, cioè si continua comunque a bere. A bere piacevolemente. Esattamente. È un buon mix, ecco. Sì, esatto, esatto, riesce a unire proprio la potenza, la parte di bella del frutto, del floreale con anche, chiaramente, la finezza, ma anche un po' di, anche un po' ostero, a modo suo, senza ovviamente virare in quella direzione. È sicuramente un Barolo più completo, se vogliamo, proprio perché prende il meglio di ognuno di queste undici posizioni per raccontarsi, per raccontare quelle che sono le sfumature del nostro piccolo, ma grande, paesino. Quindi non siamo in tanti ad avere la fortuna di avere diversi vigneti nella zona del Barolo e di avere, ecco, anche una quantità di uve che ti permette di dare un'espressione unica di quel paese. Per cui anche qua giochiamo su denominazioni che sono molto, molto limitate, ecco, che non sono tanto disponibili. Per cui, ecco, penso che anche per una persona più curiosa possa essere un Barolo interessante da scoprire volta per volta, proprio perché si conosce sempre più nel dettaglio, partendo da una visione più generosa a poi una visione più specifica a quello che è il nostro paesino e la nostra terra. I grandi vini rossi italiani, per definizione, sono gastronomici, perché sono comunque da abbinamento e tendiamo ad avere tannini importanti. Devo dire che forse il Barolo di Barolo, in questo caso, è il più gastronomico dei tre, quindi ovviamente ti richiama... Sicuramente. Ti permette di giocare anche con diversi sapori, quindi anche la creatività in cucina viene più appagata da un vino generoso come può essere il Barolo e come il Barolo. Ci piace sempre giocare un po' sui abbinamenti, ma non necessariamente tecnici, ma te hai un abbinamento del cuore sui tre vini. Allora, visto che dobbiamo uscire dai tecnicismi, non ti parlerò di Brasato al Barolo, ma ecco, io sono una persona molto curiosa e ho avuto anche la fortuna nella mia vita di viaggiare, sia per piacere che poi, grazie al mio lavoro, conoscere tante realtà diverse. Un abbinamento che mi ha affascinato tantissimo con i nostri Baroli e in particolare il Barolo del Comune di Barolo è stato un piatto messicano, quindi un mole, o meglio, un piatto cucinato con il mole, che è questo... ma neanche salsa, è proprio questo accompagnamento tipico messicano che è un mix, esatto, una purea di diversi ingredienti, tra cui il cacao, in alcuni casi il caffè, quindi rimane molto ricco, molto denso, ma anche molto saporito e con questi sentitori che si ritrovano anche molto spesso nei Baroli, secondo me si sposa alla perfezione. Per aromaticità non riesco a immaginarlo, insomma, che si accompagnino... No, no, l'ho trovato molto curioso. Mentre se, non so, Costi di Rose, che un po' gioca molto su questa finezza, questa eleganza, a parte forse io addirittura potrei anche non abbinarla. Sì, secondo me è uno di quei pochi Baroli che effettivamente sta bene da solo, accompagnato a qualcosa sta meglio, perché comunque poi il tannino esce. Secondo me quasi può essere veramente molto spavaldi e giocare anche su un piatto di pesce, magari un pesce un pochino più strutturato, come può essere un pesce spada, piuttosto che... però sicuramente ci sono degli abbinamenti simpatici e non così scontati con cui si possono ben abbinare questi vini. Adesso, direi che possiamo andare più sul classico, in questo caso andiamo sul brasato dal Barolo. Esatto, oppure uscendo dalla nostra tradizione a una selvaggina, piuttosto che sto pensando a quel cervo con il ginepro che trovi avanti in Alto Adige. Buonissimo. Il Sarmasso sicuramente si sposa a questi piatti anche più montanari. Grazie Valentina, una bellissima chiacchierata. E insomma, il mondo di Marchesi di Barolo direi che è un mondo che attraversa la storia ma attraversa anche il territorio proprio. Siamo... ecco, in questo mi ritengo molto fortunata perché abbiamo la possibilità di spaziare nel tempo ma anche appunto nel territorio toccando proprio in intimità quelle che sono delle sfumature uniche che la nostra terra ci regala e quindi è bello farle conoscere e condividerle perché poi la bottiglia più buona è quella aperta con qualcun altro. Quindi anche far conoscere il nostro territorio con altre persone è per noi il regalo più grande. Valentina, ora provo a metterti in difficoltà. Sei stata perfetta negli abbinamenti, ci provo. Noi giochiamo un po' con una cosa che si chiama Pizza Connection, quindi abbinamenti sulla pizza. Lo so che Barolo e pizza non è proprio immediato semplicissimo, provaci. Proviamo a essere creativi. D'oggi abbiamo anche la fortuna, ecco, che ci sono tante pizze gourmet, quindi vediamo. Allora, Cosse di Rose, proprio grazie a questa sua freschezza e immediatezza, secondo me con una pizza molto semplice, magari con un buon prosciutto crudo sopra, può essere un abbinamento, anzi lo proverò, ti dirò, secondo me è molto interessante. Che fame già! Ci viene la colina. Star Massa andrei su qualcosa di un po' più ricco, qualcosa di più cremoso, magari un gorgonzola e pere, con qualche noce, ecco, che crea quella giusta oleosità in bocca. Penso che il tannino del Star Massa e questa sua grande pulizia e questo suo carattere molto tagliente possa essere perfetto nel togliere, ecco, tutta quella cremosità in bocca. Mentre invece il Barolo e del Comune di Barolo ci vuole una pizza decisamente più importante. Magari un po' più piccante, quindi con un salamino piccante, con un'anduia potrebbe essere, sì, decisamente il suo. Guarda, io non dico che sono abbinamenti perfetti, no, li devo provare. Li proviamo, proviamoli insieme. Giusto perché mi è venuta veramente una gran fame. Però sicuramente Barolo e pizza ci sta, ci sta, bisogna solo trovare quella giusta, ma la troviamo. Perfetto, grazie Valentina. Grazie.